Tutta l'Italia tifo a Fiorentina, ma voi soli e ancora più forti, a testuggine, siete a testuggine, a testuggine, e arbitra guida, quella che non se la sente, il lancio lunghissimo, libera a scavalcare il centro campo, arriva sulla tre quarti, cerchiamo di venirne in possesso, no, ci anticipano poi però, riprende la palla, una bella giravolta di Guain, poi cambiamo gioco, andiamo dalla parte proprio del Berna, però anticipato dalla difesa viola, ritorna in nostro possesso con Chedira, poi torniamo indietro. La posizione è un po' spostata ed essendo troppo sul limite dell'area non so quanto sia utile e patentare il tiro rete, o non piuttosto una. Scusate, perdonami, in tre hanno detto che è fuori, puoi chiedere a quella persona, la in fondo, se almeno ammette che è fuori e vuole il rigore ancora? Andiamo avanti con la punizione, andiamo avanti con la punizione. Sì, si sono, sia Bernardeschi che è un buon tiratore, da quella posizione lì, e anche Pjanic. E arriva a disturbare anche uno Juventino. Tre, no, tre giocatori di Fiorentina e due della Juve a disturbo. Bene. Vediamo chi tira. Secondo me tira Bernardeschi, Raffaele. Sì, la mette in tre giocatori. Ma è un mancino per Bernardeschi, sì. Poi si va ad aggiungere anche il Ciolito, c'è una nutritissima barriera. Pjanic dice qualcosa, prende i suoi soliti tre passi dietro, si allontana Bernardeschi. Ma Bernardeschi è anche lui in posizione di tiro, vediamo un po'. Parte Bernardeschi, il tiro! Tiro! Sì! La Bernarda, la Bernarda, la Bernarda, la Bernarda, la Bernarda, la Bernarda, viva la Bernarda, viva la Bernarda, tutta la vita la Bernarda! Non l'avevi detto, non l'avevi detto in vita sua, ve l'ho sicuro. Lo sentivo. È la prima volta che lo dici. Allora, mi pare grave errore se mi consentite del portiere della Fiorentina che per un gol davvero pollo. l'Onda, l'Onda Monteflecci. Siamo però sempre la nostra vita accanto. Dai in sovapotetacci, dai in sovapotetacci. Dai in sovapotetacci, dai in sovapotetacci, dai in sovapotetacci. Ora per Manzucchi, ma glielo pago io, il biglietto, glielo regalo, glielo regalo l'abbonamento il prossimo anno. Non può. Con Achiellini, pressato da Terò, non scendessere via, andrà in avanti. Iguain, solo, Iguain, Iguain, solo in aria. Fallo! Il tiro! Sì! Go! Go! E' finita! E' finita! C'è la voglia di 1-1, c'è la voglia di 1-1. Questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, questo qua. Vediamo, vediamo la barra, se è giusto, vediamo. Vediamo, vediamo la barra. Stai zitta, non dire sciocchetti. Vediamo, vediamo la barra, se è giusto. Vediamo, vediamo la barra. Questo qua, guarda, stiamo a partito, non capisce di calcio, stiamo parlando di calcio. Questo qua è un grandissimo gol. Ho il vita, ho il vita mia, ho il cuore, e il tuo cuore, sei stato il primo amore, il primo e l'ultimo sarà per me. Londra, Londra, Flex, Londra! Scegli, attenzione. Allora, attenzione, punizione per la Fiorentina, potrebbe essere... Attenzione, punizione che sta per essere battuta, buffon tra i pali. Parte! Barriera! Flex, Flex. E finisce qua! Siamo primi! Dai Lazio! 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 Quello lì non era morto? Quello lì non è... Perché non hai la cattiveria di finirlo? Ma mi ha detto lui di far finirlo. No, lo devi finire. No, è lui che mi ha detto... Ma lo stavo finendo! Come lui ha detto no! Tu gli devi dare il conto finirlo! Ma è stato lui! Prenditela con lui!